Buongiorno, benvenuti al TG2000 edizione delle 12, vediamo subito i nostri titoli. Nelle mani di pochi la metà della ricchezza del pianeta, lo dice il rapporto Oxfam, sulle disuguaglianze, aumenta la forbice fra ricchi e poveri sia nel mondo che in Italia. Sì alla Brexit, critica la cancelliera Angela Merkel e alla Nato che definisce obsoleta in un'intervista a due quotidiani europei un Donald Trump a tutto campo che parla di Europa e di nuove strategie diplomatiche. Dopo la parentesi del Giubileo il Papa riprende la visita delle parrocchie romane, commovente l'incontro col vice parroco malato e poi nell'omelia il monito. Attenzione alle chiacchiere che distruggono la comunità. Chiude il Circo Barnum, il più grande spettacolo del mondo, non riesce a fare fronte ai tempi che cambiano. In apertura dunque parliamo delle disuguaglianze che crescono sempre più nel mondo, basti pensare che i primi otto miliardari hanno gli stessi beni di metà degli abitanti del pianeta. Il discorso non cambia se si guarda all'Italia. L'1% della popolazione possiede, pensate, il 25% della ricchezza nazionale, come ci racconta Luciano Piscaglia. Sono solo otto, sono i più ricchi del pianeta e da soli possiedono la stessa ricchezza della metà più povera degli abitanti della Terra. Secondo i dati forniti dall'organizzazione non governativa Oxfam, in vista del Forum Economico Mondiale di Davos che inizierà domani, nelle mani degli otto uomini più ricchi del mondo ci sarebbero oggi 426 miliardi di dollari, la stessa ricchezza in mano a quei 3 miliardi e 600 milioni di persone che costituiscono la metà più povera del pianeta. In sintesi, il 2016 passerà alla storia per un triste primato. Dallo scorso anno, infatti, l'1% degli esseri umani possiede più ricchezza del restante 99% dell'umanità. Una diseguaglianza scandalosa che cresce anche grazie all'illusione e all'evasione fiscale e che invece di diminuire aumenta sempre di più. Un terzo della ricchezza dei miliardari è infatti ereditata e chi eredita accumula interessi diventando sempre più ricco. I più poveri invece diventano sempre più poveri. Uno su nove soffre la fame, uno su dieci vive con meno di 2 dollari al giorno. Sette persone su dieci vivono in paesi in cui la diseguaglianza negli ultimi 30 anni è cresciuta. E questo non riguarda solo gli altri. Tra i paesi in cui la diseguaglianza cresce c'è anche l'Italia. Nessuno degli otto super ricchi del pianeta è italiano, ma i primi 7 miliardari del nostro paese possiedono da soli più ricchezza del 30% più povero degli italiani. Nessuna demonizzazione della ricchezza è lecitamente acquisita, ma Oxfam lancia un grido d'allarme e una raccolta di firme contro la diseguaglianza che stritola miliardi di persone, le condanna alla povertà, all'insicurezza e all'instabilità e compromette la democrazia. Povertà e diseguaglianze richiamano la condizione che milioni di persone vivono ogni giorno sulla loro pelle fuggendo da persecuzioni e guerre. Stiamo parlando dei migranti che vengono a cercare un futuro in Europa e nello specifico anche in Italia, perché dal Viminale sono in arrivo delle nuove regole per quanti chiedono lo status di rifugiato. Ce le spiega Federico Plotti. Lavori socialmente utili in cambio dello status di rifugiato. Chi è in attesa di sapere se la sua richiesta d'asilo sarà accettata oppure no dovrà mettersi a disposizione della comunità. Un obbligo e non una scelta secondo quanto prevede. Il nuovo piano sull'immigrazione che il ministro dell'interno Domenico Minniti presenterà mercoledì prossimo al Parlamento. Ma tra le novità del nuovo pacchetto immigrazione del Viminale c'è molto altro. I CIE, i centri di identificazione ed espulsione saranno completamente rivisti. Cambieranno il nome, si chiameranno CPR, centri di permanenza per il rimpatrio e cambierà anche la loro organizzazione. Uno per regione, più piccoli, massimo 80-100 posti realizzati in stabili demaniali il più lontano possibile dai centri urbani, meglio se vicino agli aeroporti. Saranno gestiti all'esterno, dall'esercito e all'interno dalla polizia con una figura garante che avrà il compito di verificare il rispetto dei diritti degli stranieri trattenuti. Altre novità riguardano la riduzione a un solo grado di appello nel caso di bocciatura della domanda di asilo, i nuovi accordi con i paesi di provenienza e la proposta di modifica anche sul reato di clandestinità. Intanto continuano i viaggi della speranza. L'Europa è ancora il sogno di un futuro migliore per tantissime persone, disposte a tutto. La rotta balcanica è tornata ad essere battuta in Serbia. Adesso sono ammassati al gelo oltre 15.000 profughi. Restano qui a costo di farsi uccidere dal freddo in attesa che Ungheria e Croazia li facciano passare. Nel Mediterraneo solo la guardia costiera ha soccorso oltre 1.500 persone negli ultimi tre giorni. Sabato, l'ultimo naufragio in ordine di tempo. Otto i cadaveri recuperati, ma i quattro superstiti, tratti in salvo, hanno detto che a bordo del gommone erano in più di 100. E l'appello più forte alla comunità internazionale nella giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Papa lo ha fatto per tantissimi profughi minorenni. Sono tre volte indifesi, ha detto, perché più piccoli, perché stranieri e perché inermi. E proprio Papa Francesco ieri ha visitato la parrocchia di Santa Maria a Setteville di Guidonia nella Diocesi di Roma. L'incontro di ieri pomeriggio è stata anche l'occasione per farsi vicino al vice parroco di questa parrocchia che da due anni è colpito da una grave malattia, come ci racconta Francesco Durante. Saluta i fedeli che per ora ero hanno atteso fuori dalla chiesa, Francesco. Raccomanda loro di pregare per lui, di pregare gli uni per gli altri, affinché la parrocchia vada avanti ed il quartiere sia sempre un quartiere di pace. Sono gli ultimi istanti della visita del Papa alla parrocchia di Santa Maria a Setteville di Guidonia, aperta dal toccante incontro, intimo e riservato, con il vice parroco Don Giuseppe Berardino, da due anni malato di SLA, bisognoso di continua assistenza, ma che è diventato l'anima di tutta la comunità, incarnando il mistero di un sacerdozio che opera nella sofferenza e trasforma i cuori. Papa Francesco gli si è avvicinato, lo ha abbracciato, lo ha baciato e poi quasi parlandogli all'orecchio gli ha detto Giuseppe, ti vengo a visitare, sono il tuo vescovo, sono qui con te, preghiamo il Signore che tu possa vivere questa tua missione misteriosa ma feconda con tanti frutti. Prima di celebrare la messa, Francesco si intrattiene con gli ammalati, con i genitori dei bambini battezzati in parrocchia nel corso dell'anno, con i catechisti e con i giovani, accompagnato dal parroco Don Gino Tedoldi. Ai giovani del dopo Cresima spiega che la loro presenza in parrocchia è una grazia del Signore, dimostrando così che il sacramento ricevuto non è, come spesso si dice, il sacramento dell'addio. E parlando ai ragazzi più piccoli si sofferma sul significato della testimonianza cristiana che deve essere fatta non a parole ma con la propria vita. Ma padre io sono cristiano e parlo dal Signore, sì, ma tu sei cristiano paparallo, soltanto di qua, pura parole, 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 eh? Ti ricordo quella canzione non voi no, siete dei giorni, eh? Sì? Parole, 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 eh? E niente di più. Eh? La testimonianza cristiana si fa con la parola con il cuore e con le mani. E lo avete sentito nel servizio, Francesco è tornato su alcuni temi a lui cari come ad esempio l'importanza di dare testimonianza di Gesù con esempi concreti di vita cristiana e non solo a parole e poi ha messo in guardia dalla trappola delle chiacchiere che ha detto il Papa distruggono la comunità. Ma sentiamo un passaggio dell'Omelia di ieri. Siamo tutti pecatori ma una comunità dove ci sono le chiaccheronne e i chiaccheronni è una comunità che è incapace di dare testimonianza. Io dirò soltanto questo. Volete una parrocchia perfetta? Niente chiacchiere. Niente. Se tu hai qualcosa contro di uno vai a dirla in faccia o dirla al parroco ma no tra voi. Questo è il segno che lo Spirito Santo è in una parrocchia. Gli altri peccati tutti li abbiamo. C'è una una collezione di peccati uno prende questo e uno prende quell'altro ma tutti siamo peccatori. Ma quello che distrugge come il Tarlo una comunità sono le chiacchiere da dietro. Andiamo all'estero perché un aereo da carico turco è precipitato questa notte nei pressi dell'aeroporto di Bichkek nel Kyrgyzstan. Il velivolo si è abbattuto su alcune abitazioni e nell'impatto sono morte almeno 37 persone tra cui 6 bambini ma si teme che il bilancio possa essere ancora più grave. nella caduta dell'aereo sono andate distrutte anche 35 case di un villaggio nelle vicinanze dello scalo aereo internazionale. Secondo le prime informazioni la causa della tragedia potrebbero essere dovute al maltempo che in questi giorni si sta abbattendo sulla zona in maniera molto molto forte. A pochi giorni dal suo insediamento Donald Trump in un'intervista a due importanti quotidiani europei spara a zero contro la Nato definendola una organizzazione obsoleta e si dice soddisfatto per la scelta dei cittadini britannici di uscire dall'Unione Europea ma non solo c'è anche molto altro nel servizio di Antonio Soviero. A quattro giorni dal suo insediamento a capo della prima potenza economica e militare del mondo Donald Trump è un fiume in piena ne ha una per tutto e tutti. In un'intervista congiunta al Times di Londra e al quotidiano tedesco Bild il presidente eletto USA annuncia che appena prenderà possesso dello studio Valle venerdì prossimo adotterà una serie di misure per rendere molto più sicuro il confine americano. Le restrizioni riguarderanno non solo i cittadini che vengono dai paesi pulle di terroristi ma anche gli europei e a proposito dell'Europa Trump definisce la Brexit una grande cosa aggiungendo di voler fare un accordo col Regno Unito. Inoltre Donald sostiene che la scelta britannica di uscire dall'Unione farà da esempio per altri paesi del vecchio continente. Alla domanda perché pensa questo il tycoon risponde secco l'Unione Europea rappresenta di base soltanto un mezzo per raggiungere gli obiettivi della Germania e riguarda la Merkel dice ha commesso un errore catastrofico ad accogliere tutti quei clandestini e sulla Nato afferma è un'organizzazione obsoleta non si è occupata di lotta al terrorismo ha dei problemi è vecchia perché è stata disegnata molti e molti anni fa cautela solo quando parla di Putin col quale sostiene è arrivato il momento di fare un accordo sulla riduzione delle armi nucleari La cronaca in Italia con l'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Latina che hanno arrestato dieci persone tra le quali il sindaco di Sperlonga ed ex presidente della provincia di Latina Armando Cusani l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta relativa ad alcuni appalti nell'indagine sono coinvolti anche dirigenti funzionari pubblici e consiglieri comunali di Sperlonga ma anche di altri centri della provincia di Latina Ed ora la politica con il rischio che l'Italia sta correndo nell'incappare ancora una volta in una procedura di infrazione dopo che è arrivato l'ultimo ultimatum da Bruxelles di aggiustare i conti pubblici ma non è questo l'unico fronte aperto per il governo di Paolo Gentiloni Augusto Cantelmi Sospesa a causa del referendum costituzionale riprende la partita sui conti pubblici tra Roma e Bruxelles e questa volta non ci saranno sconti l'Europa chiede in tempi brevi una manovra bis da circa 3,4 miliardi di euro pari allo 0,2% del prodotto interno lordo la richiesta è arrivata a Roma la settimana scorsa e non sono possibili ulteriori invii anche perché in caso contrario la Commissione Europea è pronta ad attivare la procedura di infrazione per deficit eccessivo a carico dell'Italia per il mancato rispetto della regola del debito di fatto un commissariamento sulle scelte di politica economica che il governo Gentiloni difficilmente potrà permettersi le richieste di aggiustamento dei conti pubblici da parte dell'Europa arriva nel mezzo della dura contrapposizione tra Roma e Berlino sulla vicenda Fiat Chrysler al ministro dei trasporti tedesco che chiede il ritiro dal mercato delle auto sotto accusa per l'utilizzo di dispositivi di spegnimento illegali ribatte la titolare dei trasporti del Rio che ritiene la richiesta irricevibile mentre il ministro dello sviluppo economico Calenda invita Berlino a occuparsi del caso Volkswagen clima piuttosto acceso dunque all'interno dell'Unione che tuttavia non scuote più di tanto il dibattito politico italiano alle prese con i nuovi segnali distensivi tra Renzi e Berlusconi preludio per molti di una nuova intesa un patto del Nazareno bis una nuova ondata di freddo e maltempo sta interessando l'Italia con nevicate soprattutto al sud la neve caduta in Molise in Campania in Abruzzo in Sardegna le scuole sono state chiuse in alcune zone della Campania del Molise e dell'Abruzzo di servizi si registrano anche nell'erogazione dell'acqua a causa delle gelate sulle strade statali in Campania e in altre regioni l'Anna si è a lavoro con uomini e mezzi spergi sale sgombra neve mentre a Roma un crociare è stato trovato morto in strada e non è il primo di questi giorni quasi certamente il freddo la causa la Croce Rossa lancia l'allarme è urgente trovare ricoveri al chiuso temperatura impicchiata anche nei territori del centro Italia colpiti dal sisma con enormi disagi per le popolazioni nell'Apennino Maceratese Visso parliamo del circo Barnum che chiude e si trasferisce sulla rete il più grande spettacolo del mondo si arrende al calo di pubblico e alle battaglie con gli animalisti ma anche ai costi spesso anzi troppo volte elevati della gestione e al cambio dei gusti del pubblico come ci racconta Clara Iatosti per 146 anni grandi e piccoli si sono ritrovati sotto il tendone blu già nel 1871 il circo Barnum era il più grande spettacolo del mondo tre piste e quattro palcoscenici mille artisti per 20.000 spettatori ha raccontato di animali esotici e bestie feroci di tigri e di elefanti e poi dei cosiddetti fenomeni da baraccone gemelli siamesi e donne barbute nani e giganti un mondo di arachidi e zucchero filato che non esiste più lo show di domenica sera a Miami è stato l'ultimo con gli elefanti i pachidermi verranno trasferiti in una riserva della Florida come chiedevano a muso duro da tempo gli animalisti a nulla è valso l'aver aperto i cancelli l'aver dimostrato che gli animali non venivano maltrattati il pubblico non sapeva delle cause vinte per diffamazione e disertava gli spettacoli offesi i clown avevano respinto di recente l'accostamento con la politica cialtrona noi siamo persone serie avevano chiosato Phineas Barnum con i soci Bailey e i fratelli Ringling avevano superato la crisi del 29 incendi e fallimenti il circo riusciva a presentare come reale l'incredibile tra le attrazioni la sirena delle figie e la nutrice centenaria del presidente Washington Buffalo Bill e lo scheletro di Cristoforo Colombo un'era magica è scomparsa per sempre scriveva la rivista Life nel 1956 ma il circo Barnum era sempre risorto dalle sue ceneri stavolta la grande illusione si sposta online il sipario calerà a maggio il circo resterà ma fuori dai tendoni oggi terza pagina ci fa conoscere un progetto molto ambizioso della scuola italiana un portale dove studenti di tutta Italia possono recensire e commentare i grandi romanzi del novecento con terza pagina io vi saluto e vi auguro una buona giornata grazie